Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Gli uomini fratelli. Davvero? Gli uomini fratelli. Chi è Flavio Oreglio? Flavio Oreglio è una persona normalissima che ha avuto una vita normalissima e che a un certo punto ha deciso di darsi a questo mondo particolare che è il mondo dello spettacolo, perché l'ho sempre coltivato come un hobby fin da quando ero ragazzino. Io ho fatto una vita normale, ho fatto il mio corso di studi regolare, sono partito dall'asilo, poi ho fatto le scuole elementari, scuole medie, liceo scientifico e l'università. Mi sono laureato in scienze biologiche con specializzazione in ecologia, ma nel frattempo avevo studiato il pianoforte e con degli amici mi davo la musica e abbiamo dato vita a diversi gruppi musicali. Perché la prima parte della mia storia negli anni 70 è molto legata alla musica, ma tutta la mia storia è legata alla musica. E quindi ho avuto queste belle esperienze, poi però i gruppi sai come vanno, i gruppi si sentono a mettersi d'accordo. Allora ho cominciato a intraprendere una strada personale fatta di scrittura di canzoni mie, fatta di scrittura di cose mie, che mi ha portato, dove sono arrivato adesso, e ho continuato a coltivare la musica e continuo ancora oggi a farlo, ma nel frattempo sono nate altre opportunità. Tanti mi dicono che faccio tante cose, in realtà io non ne faccio due, uso la parola e uso la musica. Sono queste due cose che poi hanno mille sfaccettature e che in qualche modo ti danno così l'opportunità di definirti in tanti modi. Perché tanti dicono, ma tu cosa fai? Sei un poeta, sei un comico, questa parola potremmo disquisire molto, sei un musicista, sei un cantautore, sei uno scrittore, è sempre la parola. Tu prova a pensare, se tu scrivi una cosa e la reciti, nel quel momento sei un attore, ma se quella stessa cosa la metti per iscritto diventi uno scrittore. Ma non è che hai fatto due cose diverse, è sempre la stessa cosa che prende forme differenti. E così per tutto il resto. Questo nuovo lavoro come nasce l'idea? Beh, questo nuovo lavoro fa parte di un progetto più ampio che ha iniziato il suo percorso nel 2017. È molto legato alla musica popolare. Perché? Perché io lo sto, diciamo, producendo, lo sto elaborando, con la collaborazione di un gruppo di musicisti bravissimi, che si chiamano gli Stafora Blueser, e che vivono nello Trepo Pavese. Quella è una terra un po' particolare, perché in quella terra viene da sempre coltivata, viene da sempre così eseguita un certo tipo di musica, che è fatta con strumenti autoctoni, e che pare che sia appunto una delle cinque musiche proprio autoctone italiane. Si chiama La musica delle quattro province, suonata con dei pifferi, che vengono prodotti in loco da centinaia di anni a questa parte, accompagnati dalla corna musa e dalla fisarmonica. Io ho conosciuto questi ragazzi in occasione di una festa, che abbiamo fatto nel Noltre Po, e lì ci siamo parlati e abbiamo detto, ma perché non prendiamo queste sonorità e le portiamo nella musica di oggi? Cioè proviamo a elaborare una produzione musicale di canzoni legata a questo tipo di sonorità, mischiate con le sonorità più moderne, la chitarra elettrica, il basso, la batteria, stilemi jazz, stilemi rock, e così abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a lavorare, sono uscite delle cose interessanti, il primo lavoro l'abbiamo pubblicato due anni fa, era un disco che si intitolava Anima Popolare, che è anche il titolo di tutto il progetto che ci siamo dati, di fare, e adesso è uscito Milano Oltre Pop. Milano Oltre Pop è un omaggio alla canzone d'autore, che ha Milano come epicentro e come rappresentanza, poi in realtà magari potremmo anche allargare a un discorso molto più ampio rispetto alla semplice città di Milano. Il fatto è che questo lavoro tiene il conto di una serie di studi che abbiamo fatto, che io ho fatto con l'archivio storico del cabaret italiano, e che hanno messo in rilievo alcuni legami tra le musiche. Uno è il legame profondo che c'è tra la canzone d'autore e il cabaret, dove per cabaret non intendo quello che si intende oggi con i comici, cioè i comici non c'entrano nulla con il cabaret, detto per inciso, ma il cabaret nasce con ben altre intenzioni artistiche, tra cui appunto la canzone d'autore. E questo è testimoniato storicamente, non lo dico io perché voglio dire una cosa così. E in più c'è questo grande legame tra la canzone d'autore e la canzone popolare. Quindi questi tre elementi hanno avuto in Milano un epicentro importante e quindi siamo ripartiti da lì, perché Milano è il luogo dove questa tesi che noi sosteniamo, che io ho sostenuto con le ricerche dell'archivio e che il gruppo ha fatto propria, è il luogo dove questa cosa si manifesta e diventa chiara. Perché i riferimenti che avevano i vari cantautori che sono nati nei cabaret, come Iannaci, Gaber, i Gufi, sono gli stessi riferimenti che avevano De Andretti, che aveva Buccini, che avevano questi personaggi che appartengono più strettamente alla sfera cantautorale. Ma ti dirò che questo è stato un lavoro che ci è piaciuto molto, è stato faticosissimo, perché ci abbiamo messo due anni a farlo, però alla fine ci stanno dando delle soddisfazioni e a dispetto dell'apparente eterogeneità della proposta invece è un'idea molto molto omogenea, molto molto precisa. La sequenza del disco è stata scelta e voluta oppure è stata una decisione casuale di questi brani? No, beh, diciamo che quello che si è cercato di fare è stato di dare un'idea musicale, perché parte con le canzoni in italiano, poi c'è un cuore dialettale e poi finisce ancora con le canzoni in italiano. Questo come intenzione generale. Poi abbiamo separato un po' altri brani che avevano approcci simili, ma soprattutto la cosa più particolare è il primo brano del disco, che è la canzone intelligente di Cocchi e Renato, che è stata messa lì ed è una specie di manifesto di questo disco. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. Ecco, questo potrebbe essere il mantra, potrebbe essere lo spirito che anima questo disco. E infatti queste canzoni hanno l'intelligenza come denominatore comune. Siamo al decimo lavoro, in questo caso, di produzione discografica. Dal primo disco ad oggi, come sei cambiato artisticamente? No, beh, l'approccio mio rimane sempre quello. A me piace sperimentare, mi piace confrontarmi con i generi popolari. La prima fase della mia storia musicale era molto legata alle musiche più anglosassoni, cioè più blues, più bluegrass, questo genere country. Mi piaceva molto questo aspetto, che mischiavo con delle caratteristiche armoniche prettamente mediterranee. Questo è stato l'esperimento che ho fatto. Poi c'è stata una fase intermedia in cui ho sperimentato altre cose, suoni diversi, eccetera, per arrivare poi ad approdare a questo progetto, che invece è molto organico e, nuovamente, a mettere in evidenza soprattutto queste sonorità acustiche, queste sonorità unplugged, come si dice, che però si mischiano anche a sonorità elettriche. È un percorso sempre, sempre legato alla sperimentazione. Mi piace sondare strade particolari, mi piace fare questo. Questo chiedo anche ai miei musicisti e ai musicisti che collaborano con me. Ho sempre fatto fare delle cose strane ai musicisti, cose anche che andavano contro il loro naturale modo di essere. E ho sempre lasciato molto spazio ai musicisti, dicendo, fammi sentire cosa faresti tu qui. E poi io mi arrogo il diritto di scegliere tra le proposte che mi fai tu, ma le proposte me le devi fare tu. Perché sai, quando vai in uno studio di registrazione, tu puoi portare degli arrangiamenti già predisposti e dici a un musicista, suona questa cosa. Invece io ho sempre lasciato molto spazio alla creatività degli altri. E mi piace perché diventa un insieme di cose che non avresti mai pensato. Invece così si arriva a delle conclusioni insolite. Ultimamente il palco è mancato, il teatro è mancato. Quanto manca realmente il rapporto con il pubblico? Perché stare davanti alla gente non è come stare davanti a una telecamera. Beh, sicuramente è un pezzo di lavoro che manca. perché è bellissimo andare in giro, incontrare persone, suonare per un pubblico che è lì e che ti ascolta in diretta. Poi ci sono tutti i contatti umani che emergono, un modo di vivere che è tutto suo. Ovviamente manca molto. Adesso ci stanno riaprendo, speriamo che non ci chiudano più. Anche perché il nostro lavoro è un po' balordo, nel senso che ogni volta che chiude, poi per riaprire ha bisogno sempre di un lasso di tempo di organizzazione. Non è così immediato. Cioè non è come un bar che è chiuso, vabbè, poi quando apre, apre, è già pronto per lavorare. Noi quando ricominciamo a lavorare dobbiamo mettere in moto tutta una serie di contatti, di meccanismi che hanno bisogno di tempo per essere attivati. E l'emozione che si prova, le sensazioni che si provano. Quando c'è davanti un pubblico che ride, piange, è alla ricerca di qualche emozione che non sanno neanche loro che cosa stanno cercando, però stanno lì e si godono lo spettacolo e a te che sensazioni ti prova? Beh, è un bel momento di condivisione, no? Allora, quando si sale sul palco si cerca la condivisione. Tu fai delle cose che piacciono o anche non piacciono, attenzione, non è così obbligatorio, no? Quindi poi ci sono momenti di gioia, ma anche momenti di critica, se vogliamo, sotto certi aspetti benvengano. Soprattutto le critiche sono importanti quando sono costruttive, quando sono circostanziate, quando sono motivate. E io sono sempre disposto ad ascoltare qualsiasi tipo di critica possa essere mossa, purché sia una critica, appunto, come dicevo, non gratuita. È nato nell'acqua, cioè la mia prima attività, quando mi è supertrata, la possibilità di ischi, tipo i libri, eccetera, che sono importanti. Sono cose importanti perché, al di là del mero aspetto commerciale, del mero aspetto, diciamo, del guadagno lavorativo, eccetera, ma sono importanti perché testimoniano quello che tu hai fatto. Cioè la storia di un artista non è solo quanti concerti ha fatto, quanti spettacoli ha fatto, eccetera, ma che cosa ha prodotto. E la produzione di un artista è la sua storia vera. Per cui io mi riconosco come storia nei miei libri e nei miei dischi. Ed è bello quando pubblico queste cose perché poi è una testimonianza, no? Oltre appunto a un discorso lavorativo, è una testimonianza che, perché sui dischi e sui libri ci vanno delle date. Ecco, nel 2006 ho fatto questa cosa, nel 2010 ho fatto quest'altra cosa, e così via. e hanno un grande valore documentaristico, documentale e anche affettivo. Parliamo di spettacolo, ma in realtà molta gente non ha capito c'è la differenza. Ormai abbiamo sdoganato il fatto che la satira debba fare il ridere, ma la satira non è comicità. No. Allora, sul discorso del ridere bisogna fare molta attenzione. Allora, intanto, prima, all'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare, io ti ho detto che c'è un legame fra il cabaret e la canzone d'autore. Ecco, il primo errore da mettere in evidenza è non confondere il cabaret con la comicità. Ma c'è un altro errore che viene spesso commesso, è quello di confondere la comicità con il ridere. Cioè, se fai il ridere sei un comico. Ecco, questo è sbagliatissimo. Almeno non è sempre vero. Perché la comicità non è sinonimo di ridere, perché il ridere è un concetto più ampio rispetto al semplice comico. Ci sono tante forme del ridere. Per esempio, una l'hai nominata tu adesso, la satira. È un'altra forma del ridere, non c'entra col comico. Un'altra forma del ridere è l'umorismo. Oppure abbiamo l'ironia, il sarcasmo, il grottesco, il buffo, il ridicolo. Sono tutte forme del ridere. Il ridere è un concetto molto ampio, per cui non è detto che se fai ridere tu debba essere per forza definito comico. E porto sempre l'esempio di Giorgio Gaber, perché è emblematico. Giorgio Gaber faceva ridere tantissimo, ma solamente un pirla definirebbe Gaber un comico, perché Gaber non era un comico, però faceva ridere. Diciamo che far ridere non è prerogativa dei soli comici. Quindi, quando si ride, non necessariamente ci si trova davanti a un comico. Ed è questo un ragionamento che viene poco portato avanti, così per semplicità, forse anche di linguaggio, perché non si ha voglia magari di soffermarsi a pensare qui di tanto, si liquida tutto dicendo che ti fa ridere un comico e fa cabaret. Cioè, chi fa ridere è un comico e fa cabaret. È sbagliatissimo. Il cabaret non è un genere di spettacolo come la musica. Non è che uno fa musica e l'altro fa cabaret. Noi, quando diciamo che qualcuno fa cabaret, tendiamo a dire che fa ridere. Però è tutto sbagliato. Il cabaret è una forma d'arte incredibile. È una situazione che ha convogliato all'interno, fin dalle origini. Intanto il cabaret l'hanno inventato pittori, poeti e cantautori. Non ci sono i comici. I comici, quando nacque il cabaret nel 1881, durante la Belle Epoque a Parigi, Francia, già lavoravano i comici. Lavoravano nei cosiddetti café chantant, che sono un'altra cosa, che all'epoca si erano evoluti nelle musical, per intenderci, il Moulin Rouge. Il Moulin Rouge è una musical. Ed era un'evoluzione del café chantant, che era più antico. Era un'evoluzione proprio commerciale. Cioè, fa conto che il café chantant nascevano perché nei caffè mettevano un piccolo palco e facevano esibire qualcuno. Poi hanno cominciato a costruire le strutture, hanno cominciato in Inghilterra, si chiamano così, proprio perché arrivano dall'Inghilterra, le strutture con i palchi, molto più ampie, e che potevano recepire più pubblico. E lì proponevano uno spettacolo di arte varia, che poi darà origine al Varietà. In quel momento storico, mentre già i comici lavoravano, c'erano gli spettacoli di arte varia, il Compagnia Bella, con le ballerine, il Cancane, nasce il Cabaret, che raccoglie delle vicchie artistiche di letterati, poeti, pittori, cantautori e, attenzione, disegnatori satirici. Questo è il mondo del Cabaret. Con i comici non ha nulla a che vedere. Ovviamente queste erano persone che comunque avevano un approccio anche di divertimento e procuravano anche del sorriso, ma come umorismo, come satira, come ironia, quindi non necessariamente come comicità. E questo è un discorso che adesso io lo sto facendo molto breve, ma andrebbe dibattuto parecchio e sarebbe interessante farlo. Quando parte adesso la tournée per questo lavoro? O comunque... Ma non c'è una vera e propria tournée. Diciamo che ci stiamo, come ti dicevo, organizzando per rimettere in moto tutto il discorso delle date. Abbiamo già qualche data fissata, ne stiamo trattando delle altre e ci stiamo muovendo per fare più cose possibili. È che questo mondo fa fatica a rimettersi in moto e quindi bisogna aspettare, bisogna avere pazienza e bisogna lavorare con calma e serenità. Delle cose stanno arrivando, abbiamo dei belli appuntamenti e speriamo di metterne giù altri. Tenendo un pulsante magico e ti potresti salire, sali su questo palco e hai di fronte un personaggio che deve suonare quella canzone, quale canzone sceglieresti e quale canzone scegli e quale personaggio scegli? Guarda, ce ne sono tantissime, è difficile fare una scelta. Io ho avuto il privilegio, la fortuna e il piacere di cantare per esempio con Alberto Fortis la sedia di Lillà durante una serata, che è una canzone bellissima. Ho avuto il privilegio di cantare Luce a San Siro con Pecchioni durante un'altra serata, ho avuto il privilegio di cantare la musica ribelle e la radio con Finardi durante le serate. Quindi io ho già fatto esperienze di questo genere e ogni volta è stato un grande piacere, perché sono grandissime opere d'arte che mi è piaciuto interpretare e mi è piaciuto condividere con gli autori che li hanno. Tra tante domande che ti hanno fatto e interviste che hai fatto, qual è quella domanda escluse le nostre che in realtà non aveva proprio nessun senso logico che poi la risposta in realtà non ha avuto né senso né logico né neanche la risposta? Ma sai che potrebbe essere questa che mi hai fatto tu adesso? Ma non mi ricordo una domanda del genere sinceramente e devo dire che è abbastanza strana la domanda che mi hai fatto adesso e non ci avevo mai pensato no no perché le domande hanno sempre avuto comunque un senso non ricordo qualcuno che mi abbia chiesto delle cose stravolgenti o insolite a cui io ho risposto in un altro modo forse boh no non ce n'è forse ripeto questa è la prima volta che mi hai fatto una domanda così strana a cui rispondo in maniera illogica quindi possiamo dire come è Tabisio è il momento omotopreico tanto per dire una la diciamo scientifica in modo tale che il risultato non cambia beh eh beh sì effettivamente questa è una domanda molto strana ecco questa domanda non mi è mai stata fatta per esempio e devo dire che mi ha colto abbastanza di sorpresa però ho risposto su un altro pianeta quindi possiamo dire che hai la paternità di questa di questa cosa io ti ringrazio e poi l'ultima alla Marzullo poniti una domanda dati una risposta poniti una domanda Flavio dove vuoi arrivare la risposta è bah non lo so a me piace sondare l'ignoto per cui parto non so dove vado però mi piace vedere dove arrivo quando ti manca la televisione non mi manca assolutamente mi manca solo in termini lavorativi cioè io ho sempre lavorato per il discorso del live e per la realizzazione di quello che scrivo e quando dico scrivo dico scrivo come scrittore come musicista la tv se mi accompagna nei percorsi che mi interessano va bene ma io non mi adatto alla televisione per fare atto di presenzialismo non mi interessa anche se capisco che quando poi non sei più così mediatico le persone e il sistema diciamo tendono un po' a dimenticarti ma io voglio fare in modo che questo non succeda a prescindere dal fatto di essere lì la tv l'ho fatta sono contento di averla fatta attenzione non rinego niente non sto non sto dicendo che non però ci sono delle cose che mi piacerebbe fare ma dove non riesco ad approdare e delle cose che magari mi sono state proposte a cui ho detto di no perché non mi piacciono fare quindi è uno strumento di comunicazione della televisione si possono fare delle cose belle purtroppo se ne fanno tante che non sono belle e qualche cosa di bello ci sono per farlo assolutamente se invece dobbiamo essere in tv solo per il fatto di esserci a tutti i costi per farsi vedere questo non mi interessa vedo dei manifesti di spettacoli il flauto magico ma soprattutto l'altro manifesto che è fantastico oltre che già il manifesto in sé è fantastico ma probabilmente anche lo spettacolo era a quale ti riferisci? alla tua destra quello lì? sì quello grosso lì quello è lo spettacolo il mio primo spettacolo che ho fatto si titolava appunti spunti e disappunti risale al 1984 prima ancora che iniziasse la mia vera storia perché se tu vai sulla mia biografia scopri che io ho iniziato a fare questo lavoro nel 1985 ma non è ma come ti dicevo io ho cominciato a fare musica con gruppi e fare altre esperienze anche prima già dagli anni 70 è stato diciamo tutto un momento preparatorio dove ho fatto le prime esperienze all'oratorio con gli amici eccetera e poi tra l'81 e l'84 ho cominciato a fare le prime e mezza esperienze quasi professionali e uno dei primi spettacoli che ho fatto era quello si intitolava appunti spunti e disappunti e quello è il manifesto dell'epoca quindi un manifesto che risale al 1983 o 1984 possiamo dire che sei vintage vedendo il telefono a rotella che non esiste più ma lo vado a post diciamo che il set è costruito proprio con questo animo e mi piace l'idea che sia così guarda che però voglio dire una cosa che a dispetto del vintage io sono estremamente moderno e sono estremamente proiettato verso il futuro il problema è che spesso e volentieri per trovare delle idee avanti devi guardare indietro perché c'è stata un'involuzione della testa delle persone non di tutti perché quando fai questi discorsi lo fai diciamo in termini massimalisti cioè non vale per tutti ci sono persone che sono ancora molto molto attive cerebralmente ma se tu guardi la produzione musicale per esempio dei primi anni 70 e la confronti con la produzione musicale di questi anni c'è un abisso un abisso di approccio un abisso di musicalità un abisso di 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 come dire di contenuti infatti 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 spesso e volentieri si va alla riscoperta di quel periodo no e e così come spesso e volentieri si va alla riscoperta dei grandi della grande scuola cantautorale perché perché era un momento in cui si pensava molto Gardner negli ultimi anni della sua storia ha fatto uno spettacolo che si intitolava e pensare che c'era il pensiero ecco questa è una cosa che in qualche modo andrebbe riscoperta e la cosa bellissima è che per guardare avanti bisogna guardare indietro ecco perché sono vintage non per nostalgia la nostalgia non mi appartiene è la mia storia la mia storia è legata a queste cose e mi piace mi piace ricordare la mia storia mi piace ricordare da dove arrivo mi piace tenere presenti le radici ma come diceva Bertoli i piedi sono nel passato ma lo sguardo è dritto attento nel futuro la stessa canzone prende lui quando raccontava questo quest'aneddoto parlava del discografico e gli diceva sei vecchio scrivi a penna in realtà poi fece un successo e forse disse ho portato alla dimissione di quello stesso dirigente ma è necessario obbligatorio passare per i talent oggi se ci fossero stati un Gabber sarebbe mai venuto fuori onde andrei con questi talent secondo ma guarda io non voglio esprimere giudizi sui talent danno un'idea secondo me ma questa è un'opinione qui io posso pensarla così un altro professore diversamente ma l'idea che emerge dal talent è un'idea sbagliata di questo mestiere perché questa precisione questo stare attenti a tutta una serie di cose tecniche a scapito magari della creatività di una persona questo è un mestiere che uno non deve sentirsi dire come va a fare deve farlo e basta poi può capire segreti da altri chiedere se è il caso ma fuori dai contesti di gare o di di come dire di situazioni come quelle lì cioè vedere gente che piange perché viene eliminata e poi dietro si va a vedere che arriva la mamma queste robe sono tristissime ecco questa è roba vecchia eppure passa come novitano io quando vedo queste cose mi era triste quando vedo queste situazioni mi era triste poi ci sono anche dei bravissimi perché sono tutti bravi i ragazzi sono bravissimi hanno delle tecniche incredibili però per dirti questa ricerca anche della voce perfetta che si sbagli le note vieni penalizzato ma uno come Battisti sarebbe stato eliminato dai dai tale tu pensa perché ma con quella voce cosa vuoi fare non hai una voce strana uno come Vasco Rossi sarebbe stato eliminato perché con l'accento anche Emiliano che è bellissimo da sentire quindi guarda la maggior parte dei cantanti che hanno avuto successo sono tutti dei difetti non so come dire però perché sono straordinari perché è l'animo che è straordinario è l'animo dell'artista che conta non la tecnica anche la tecnica certo belvenga la tecnica per l'amore di Dio suona bene canta bene belvenga ma se non c'è l'animo non c'è artista c'è esecutore sì però è un'altra cosa è un altro mondo e quindi io ai ragazzi dico fregate volete fare volete fare una cosa fatela prendetevi la responsabilità di quello che fate questo è un grande insegnamento perché non esiste una legge non esiste una regola poi esistono le regole dei discografici che sono un'altra cosa ma la discografia non ha niente a che vedere con la musica sono due mondi diversi le leggi dei discografici non sono leggi che vanno bene per la musica se vuoi fare musica devi mandare un po' quel paese discografici c'è stato solo un momento in cui i discografici hanno seguito la musica era proprio l'inizio degli anni 70 quando sono stati prodotti i capolavori dopo hanno cominciato a dare le leggi commerciali allora fanno le leggi per dare il prodotto commerciale il prodotto commerciale ma cosa vuol dire allora se tu guardi i dischi che vengono prodotti commercialmente sono invenduti quindi una marea di dischi commerciali invenduti quindi vuol dire che sono leggi del marketing che lasciano tempo che trovano non è vero ci deve essere sempre qualcosa di particolare nelle canzoni nella musica nell'artista se no non non attecchisce dopodiché ognuno scelga la sua strada cioè non è che se non è che se la pensi così diversamente da me o se fai delle cose diverse da quelle che posso segnalare io commetti delle illegalità non c'è problema semplicemente vai poi se ti va bene è andata bene ma cosa vuol dire andare bene sei soddisfatto di quello che stai facendo sono tanti risvolti non è solo una mera questione di bravura nell'esecuzione del nuovo lavoro uscirà la forma fisica sì sì è in stampa in questo periodo fra qualche giorno ci sarà e lo stiamo la cosa bella del mio lavoro è che è un lavoro artigianale questo mi piace molto a rispetto dell'industria discografica è un lavoro che tratta la stessa materia ma è fatto artigianalmente e a me piace questa idea della factory la factory dove ti costruisci le tue cose dove ti fai quello che vuoi come lo vuoi tu senza interferenze di altra natura non sono al servizio di nessuno io faccio quello che vuoi va bene non va bene mi assumo le mie responsabilità sono anche un imprenditore che si assume il rischio di impresa e informabilità cosa non semplice oggi perché gli imprenditori quando si parla di imprenditoria l'ultimo tema che viene trattato è il rischio di impresa in forma vinile? in forma vinile sarà è una cosa che stiamo pensando potrebbe anche uscire anche così vediamo vediamo un po' cosa succede qui non si sa si vive no si naviga a vista non ho qualcosa di preordinato man mano che succedono delle cose ne nascono delle altre e poi vediamo se sarà il caso fare il vinile io tra l'altro nella mia vita ho fatto anche dei vinili più prima hai citato i miei primi discos guarda ce ne ho qui casualmente questo questo è il disco cronostrofobia che era in vinile e l'altro è il primo disco che era melodie parodie io ho iniziato con i vinili poi siamo passati ai cd adesso c'è la musica liquida sul sul web ma alla fine quello che conta è quello che quella musica rappresenta è quello che quella musica dice che sia su vinile che sia su cd o che sia su una piattaforma digitale non cambia il posto dove non lo gusti di più è proprio dal vivo è dal vivo che viene fuori proprio la giusta relazione la giusta energia per cui io spero e auguro a tutti coloro che fanno musica che le cose vadano per il verso giusto la musica è sempre bella dal vivo sì sì perché ogni giorno è sempre diversa ogni giorno ognuno la interpreta in modo diverso è proprio così è proprio così e spesso è proprio anche l'energia che il pubblico ti manda che ti fa fare le cose in una certa maniera piuttosto che in un'altra per cui non è nemmeno solamente un fatto tuo ma è un fatto collettivo ed è molto bello questo aspetto beh certo saluto tutti gli amici in ascolto e che la Catarsi vi accompagni ora e sempre nei secoli di secoli Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro gli uomini e fratelli davvero? sai cosa devo dirti? che a me ma non sai quanto mi piacerebbe proprio cantare una canzone ma ma una canzone intelligente poi vedi avevo fatto un buettino un bricolaggio di ho visto ho visto bello ma qui di qua sei serio veramente serio ma io sono sempre serio non rido mai allora non è che non rido mai rido se è il caso partecipo anche con il sorriso ma nelle foto ecco questa è una cosa che fa parte di un certo mondo perché uno dice beh tu fai ridere ma perché sei serio? allora uno dei vezi dei cosiddetti comici è quello di apparire sempre come fanno sempre le foto come per dire qui si ride cioè come di dai che ce la ridiamo io no io dico parliamo e vedrai che si ride magari si ride anche magari si ride anche di più mi ricordo tanto una battuta che ha fatto Gino Bramieri in un'audiocassetta perché poi mi sono ritrovato quel file accidentalmente quando dice il comico è colui che o è lo scemo del villaggio oppure cioè però deve essere lo scemo del villaggio prende non è mai preso come lavoro quindi allora diceva sai devo far ridere per forza se no sono lo scemo il villaggio cioè non è questa cosa qui infatti ma infatti l'idea folle è ci sono persone che fanno di tutto per far ridere usando la parola diciamo ci sono persone che raccontano per fare ridere e invece ci sono persone che fanno ridere per raccontare questa è una bella differenza Giorgio Gaber era uno che faceva ridere per raccontare tu rimanevi colpito da quello che lui raccontava che ti raccontava ma mentre te lo raccontava e ti faceva arrivare il suo discorso il suo ragionamento quello che voleva raccontarti ti faceva anche ridere quindi la risata per Gaber era uno strumento mentre e mentre per i comici la risata è un obiettivo è un fine quindi tutto quello che io racconto lo racconto perché il mio scopo è farti ridere invece l'altro atteggiamento è no io voglio raccontarti delle cose e mentre te le racconto uso lo strumento della risata perché così almeno tu mi ascolti di più perché quando la gente si diverte di più recepisce meglio quello che stai raccontando sono due atteggiamenti diversi ripeto non c'è illegalità né da una parte e nemmeno dall'altra è solamente una questione di indole ci sono artisti che hanno quel tipo di indole che sono i comici ci sono artisti che hanno quest'altro tipo di indole che non si sa come si possano chiamare però non sono sicuramente comici allora io ti saluto ti auguro buona serata grazie anche a te e tanti tanti auguri per la nuova avventura speriamo che vada tutto bene speriamo magari di ritrovarsi eh sì speriamo speriamo che il tuo spettacolo il tuo spettacolo venga ad Ascoli io sono stato pensa che durante la pandemia ho fatto poche cose una di queste cose l'ho fatta ad Ascoli al teatro di Ascoli ho fatto tre cose il premio il premio no scusa la manifestazione Milano per Gavera Milano una serata ad Ascoli in teatro in streaming e un'altra cosa però per un'azienda non ci fa niente tu pensa sono stato ad Ascoli cos'era? marzo febbraio marzo noi ne abbiamo saputo però no però non era aperto al pubblico eh e lo sono fatto ma ero lì e ne ero ero in streaming sono venuto fino ad Ascoli per fare uno streaming io potevo farlo da casa mia al teatro quindi io basso? al teatro? eh al teatro? sì al teatro al teatro di Ascoli quindi io spero di di venerti di persona al teatro quindi io basso perché sarà sicuramente bello speriamo di rivederci dai mi ha fatto piacere incontrarti grazie per il tempo che mi hai dedicato no grazie studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro gli uomini e fratelli davvero? se cosa devo dirti che a me ma non sai quanto mi piacerebbe proprio cantare una canzone ma ma una canzone intelligente mi ha fatto piacere mi ha fatto piacere mi ha fatto piacere che giù mi ha fatto piacere mi ha fatto piacere